il video è un video che è il video guarda che assurda sta roba è assurdissima è la roba più assurda che abbiamo mai fatto nella nostra vita è assurda cosa siamo usciti a fare anche guarda, è pazzesco io ci pensavo ieri e dicevo ma ieri oggi ero in Onda lo Zoo e solo uno di Radice è assurda sta cosa bella bella è una puntata diversa dal solito ma siamo caldissimi H7 allora se non sai prendere l'intro scusa ma mi ha spiegato il contrario sto cretino fammelo dire Radio DJ One Nation One Station nooo e allora se non sai prendere l'intro è una carogna proprio ma se siete qua da un quarto d'ora avete parlato tre secondi la prossima volta smettiamo da RDS venga la ci fa due dovremmo chiamare RDS abbiamo fatto scusa allora è la pubblicità disco pubblicità è colpa vostra disco entro tre secondi infatti dovresti parli sul programma o come on SABATO SEGA SABATO SEGA SABATO SEGA SABATO SEGA SU RADIO DI GEL RADIO DI GEL SABATO SEGA SABATO SEGA SABATO SEGA SABATO SEGA SABATO SEGA SU RADIO DI GEL RADIO DI GEL SABATO SEGA